Buonasera ragazzi, iniziamo come giornalmente facciamo con il gruppo della sera, c'è qualcuno che ha il piacere di cominciare per primo, condividere qualcosa rispetto alla sua giornata? Buonasera Buonasera, non sto tanto bene ancora psicologicamente, fisicamente perché ho stato appena in l'ultima settimana fa, domani una settimana questo mi fa solo molto male perché non riesco a sbloccare, poi voglio dire un'altra cosa, stasera ci sarebbe la partita, no? la partita dell'Inter, io vorrei vederlo perché sono stanco di sentire Ballarò e questo, quell'altro, su e giù si guarda la partita e basta, non viene per nessuno, mi sembra di fare le cose giuste, nel senso non avvisare diciamo ma non è calma, come scusa, se guarda la partita e basta, eh decidi tu per gli altri se guarda la partita e basta, cos'è dittatura? come decidi tu per gli altri? comunque ragazzi, abbiamo sempre votato, dobbiamo stare 90 minuti a vedere una palla che va da una parte all'altra ragazzi lo sapete benissimo che non è la sede adatta per cercare di chiarirsi, lo stabiliamo dopo in ufficio e vediamo di trovare una soluzione democratica in modo da accordarsi insieme un po' di attualità, comunque c'è da vedere la partita, la riusciamo ad avere una cosa e le ballarò va bene, però ho appena detto, lo risolviamo dopo, adesso lasciamo che parlino anche gli altri che hanno bisogno di condividere Massimo? ah, io sono passato una buona giornata, sono andato dagli animali, però vorrei sapere questo progetto cinema, non so, vengo pagato qualcosa non so, perché per farmi vedere, per farmi vedere in tv o in qualche posto, non so se mi danno qualche riscontro, bene, se no io non lo faccio più, cioè nel senso vorrei non essere pagato, però qualcosa, che mi danno qualcosa in più, non so, una coppa, qualcosa che stimola, che mi stimola di più questo progetto cinema, hai capito? se non ho lì vuoi dare qua, insomma, è Dio buono, mi mi viene, grazie, mi viene nervoso Dio buono, spreco la voce cosita, dai, se mi da qualcosa, bene, se no mi ne favo più, basta non mi lascio quel che rompe le scatole, però va ben cosita, decido meglio Ricciarghia, mamma mia, la vi sempre da dire qualcosa, bene, comunque la giornata è andata bene, faccio un auguro di buona serata a tutti e un ciao ciao, 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 grazie Massimo prego Antonio? io ho passato nel complesso una bella giornata, un po' sento l'ansia e poi ho chiesto la terapia al bisogno all'infermiera, non me l'ha data, non so, io adesso sto un po' male, però nel complesso ho lavorato, quindi sono stato bene, poi mi ha fatto nervosire questo, con la partita di calcio, vabbè dai, me la faccio passare comunque, ciao, ciao bene ragazzi, se è tutto, vi auguro una buona cena, vediamo di passarla in armonia, onde evitare ulteriori discussioni, adesso andiamo in ufficio a parlarvi, sì, adesso andiamo in ufficio, comunque buona serata e chi vuole può fumarsi una sigaretta, ciao, ciao